Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuti ai responsabili nazionali del settore giovani di azione cattolica Emanuela Gitta e Lorenzo Zardi e all'assistente nazionale Do Gianluca Zurra. Vi abbiamo invitato perché avete incontrato Papa Francesco. Papa Francesco che ha detto di avere una grande passione condivisa con voi, la passione per la parrocchia. Sentiamo le parole del Papa. Vi dico subito che apprezzo molto il fatto che a voi sta a cuore la parrocchia. Anche a me sta a cuore la parrocchia. Sono dei movimenti, sono cose che girano. La parrocchia, la radice nella parrocchia. La realtà socioculturale in cui vivete voi è molto cambiata, lo sappiamo. In certo tempo, prima in altri Paesi, poi anche in Italia, la missione della Chiesa è stata ripensata, in particolare la parrocchia. Ma in tutto questo rimane una cosa essenziale. Per noi, per me, per voi, per il nostro cammino di fede e di crescita, l'esperienza parrocchiale è stata ed è importante, insostituibile. È l'ambiente normale dove abbiamo imparato ad ascoltare il Vangelo, a conoscere il Signore Gesù, ad offrire un servizio con gratuità, a pregare in comunità, a condividere progetti e iniziative, a sentirci parte del popolo santo di Dio. E poi, ancora, che il cristiano si interessa a realtà sociale ed ha il proprio contributo, che il nostro motto non è me ne frego, no, ma mi interessa. State attenti, state attenti voi. State attenti voi che è più pericolosa di un cancro la malattia del menefreghismo nei giovani. Per favore, state attenti. Abbiamo imparato che la miseria umana non è un destino che tocca ad alcuni sfortunati, ma quasi sempre il frutto di ingiustizie da stirpare. Emanuela, che un Papa dica mi sta a cuore la parrocchia è normale, sarebbe strano se non fosse così. Forse è un po' più strano per un giovane. Perché vi sta a cuore la parrocchia? La parrocchia ci sta a cuore perché è il cuore, rappresenta il cuore della nostra esperienza di chiesa. Tutti noi iniziamo a fare esperienza di chiesa a partire dalla parrocchia. In questi ultimi anni sono stati anni che sono stati contraddistinti da sfide importanti a livello sociale. Con la pandemia l'abbiamo visto. Però mentre tutto chiudeva, la parrocchia forse è stata la prima a mobilitarsi per tenere viva la dimensione comunitaria. E per questo, anche come giovani, sentiamo il bisogno di ripartire dalle parrocchie, di ripartire dall'entusiasmo che si può generare nelle parrocchie, perché è il cuore della comunità nella città. Ma a proposito di cuore, al tuo cuore, storicamente, cosa ha dato la parrocchia? In un tempo in cui i giovani hanno centinaia di opportunità e di spazi virtuali o fisici? La parrocchia è il luogo in cui ti accorgi che la fede non è solo un fatto privato, non è solo un fatto individualistico, ma è il luogo dove fai esperienza di comunità di fede, dove ti accorgi che sei parte di un popolo, il popolo di Dio, che in virtù del battesimo condivide l'esperienza della fede e cresce insieme. Don Gianluca, tu sei stato anche parroco prima di fare l'assistente nazionale dei giovani di azione cattolica. Il Papa parla di cambiamenti. Tu hai più di vent'anni di ordinazione. Che cambiamenti hai visto e che cosa offre, secondo te, oggi la parrocchia a un giovane? Sì, certo. Il Papa ha fatto un passaggio molto importante. Non si è limitato a dire che è necessario ripartire dalla parrocchia. Ci ha anche detto che la parrocchia deve cambiare. È un cambiamento radicale perché chiaramente non siamo più in un'epoca di cristianità. Allora, cosa vuol dire essere cristiani dentro un territorio che è diventato plurale? Io credo che la parrocchia però mantenga questa energia, cioè il fatto di ridire continuamente la fede dentro la quotidianità della vita. E certamente se oggi può ancora parlare, lo può fare se ha il coraggio di diventare effettivamente un'esperienza di fraternità, un'esperienza di rete. E chiaramente sarebbe un guaio se continuassimo a pensare la parrocchia come un nido oppure semplicemente come il luogo attorno al campanile, come ci siamo detti in questi giorni proprio con i giovani. Penso che proprio a Roma in questi giorni abbiamo provato a respirare un cambiamento. Abbiamo riflettuto sulla parrocchia ma partendo dagli ambienti di vita che sono ben oltre rispetto al campanile, come spesso diciamo. Nell'ambito della cultura, della scuola, del lavoro, dello sport, tutto ciò che riguarda un territorio. Che relazioni hanno questi ambienti di vita come li hai chiamati tu con la parrocchia? Ce l'hanno perché il territorio non è semplicemente un fatto geografico, questo è evidente, il territorio è fatto di relazioni. Quindi la parrocchia esiste là dove ci sono reti di alleanze tramite tutti coloro che dentro e fuori la chiesa si prendono cura della bellezza dell'umanità. Quindi quando è aperta il territorio a tutte le esperienze che ci sono. Esattamente. Ma i giovani di azione cattolica che cosa offrono, che esperienza offrono agli altri giovani? Perché un giovane dovrebbe venire in parrocchia e non in un altro luogo del territorio o anche fuori dal territorio visto che... Provo a ribaltarti la domanda. La domanda è perché la parrocchia deve andare insieme ai giovani nei luoghi di vita. Lo deve fare perché oggi di Dio c'è bisogno, cioè la nostra società non ha meno bisogno di Dio rispetto alla società del passato. Allora la parrocchia, luogo di grande umanità, è innanzitutto un'esperienza di comunità che si fa non soltanto dentro le mura fisiche della parrocchia, ma può sfruttare la grande capillarità che ha, l'esperienza parrocchiale, per diventare non soltanto radicati ma anche radicali nelle relazioni. Oggi non esistono giovani che vanno soltanto in parrocchia. Tutti quanti, la nostra fede si compie negli ambienti di vita. E quindi tradotto nell'esperienza di un gruppo giovani parrocchiale di azione cattolica, che cosa significa, di che cosa si interessa un giovane di azione cattolica a partire dalla parrocchia? Semplicemente di tutto, ce lo diceva Vittorio Bachelet 50 anni fa, cioè bisogna tornare alla radice, cioè all'esperienza di fede. Ma quando tu mi dici di tutto, stai facendo una bella teoria oppure hai presente, vedi, mentre mi dici di tutto, l'esperienza della parrocchia di San Giuseppe che fa cosa? Penso ai giovani che hanno durante la loro vita quotidiana realizzato progetti di legalità. Penso a Trani, dove da anni c'è una buona relazione, con Lega Ambiente, oppure penso all'esperienza di Open Ortus, dove si è rivitalizzato uno spazio cittadino, oppure penso all'esperienza dell'azione cattolica in carcere a Rossano Calabro, oppure adesso che aprirà l'8 dicembre un'altra associazione in carcere a Palermo. Quindi i giovani di azione cattolica non fanno la stessa cosa nelle diverse parrocchie, fanno cose diverse. Meno male, perché l'esperienza di Palermo non è la stessa di Trieste, allora è importante essere radicali e capire come servire il territorio, cioè di che cosa c'è bisogno in un territorio e che cosa l'azione cattolica può dare a quel territorio. E qual è la radice comune? Se fanno tutte cose diverse, perché sono tutti di azione cattolica? Perché centrano il loro impegno non in un banale filantropismo, ma appunto nell'esperienza di amore verso il Signore. Non si può amare l'uomo se non si impara ad amare e servire il Signore, diceva Carlo Carretto. E questo è molto vero ancora oggi. Ritorniamo alle parole del Papa e al tema che aveva già un po' anticipato Don Gianluca, quello della fraternità. Anzitutto, voi volete contribuire a far crescere la Chiesa nella fraternità. È una cosa molto importante, ma non spaventatevi, perché si tratta di un dato sociale che si è aggravato con la pandemia. Oggi, specialmente i giovani, sono estremamente diversi rispetto a 50 anni fa. Non c'è più la voglia di fare riunioni, dibattiti, assemblea. Per un verso è una cosa buona. Anche per voi, azione cattolica non deve essere una sessione cattolica. E la Chiesa non va avanti con le riunioni. La Chiesa non va avanti con le riunioni. Ma per altro verso, l'individualismo, la chiusura nel privato o in piccoli gruppetti, la tendenza a relazionarsi a distanza contagiano anche le comunità cristiane. Se ci verifichiamo, siamo tutti un po' influenziati da questa cultura egoistica. Dunque bisogna reagire. E anche voi potete farlo incominciato con un lavoro su voi stessi. Lavoro su voi stessi. Mi piace molto un'espressione che voi usate. Essere impastati in questo mondo. Essere impastati in questo mondo. Il principio di incarnazione, la strada di Gesù, portare la vita nuova all'interno, non da fuori, non da dentro. Ma ha una condizione, però, che sembrerebbe ovvia, ma non lo è. Che il lievito sia lievito. Che il sale sia sale. Che la luce sia luce. Emanuele, a che cosa significa essere impastati con questo mondo? Perché poi impastare ti può dare l'idea del lievito, come diceva Papa Francesco, però anche del pasticcio. Impastare, credo che con questa espressione il Papa intenda il bisogno che abbiamo di calarci nei problemi, nelle questioni che riguardano l'uomo, l'umanità intera. Però impastati l'avete usato voi. Il Papa dice, mi piace questa espressione che usate. Esatto, perché nel nostro DNA associativo c'è anche questo essere nel mondo, ma non del mondo. Allora questo ci dice di un impegno che si radica appunto negli ambienti di vita, come abbiamo detto prima, ma che è anche teso a toccare le ferite della gente, le questioni e le domande di senso e la ricerca di senso che le persone, i giovani in particolar modo, oggi vivono e che condividiamo anche con il resto dei giovani. Lorenzo, non sessione cattolica, non essere pieni di riunioni come si faceva una volta, però la comunità come si fa? La comunità si fa anche con le riunioni, ma riempiendole di significato. Non moltiplicando le riunioni per risolvere i problemi, ma dando vero significato a quelle che si fanno, tornando un po' alla radice. Noi forse abbiamo come Chiesa moltiplicato gli incontri, le riunioni, e invece abbiamo bisogno di tornare all'essenziale, perché la comunità si fa nel dialogo, nello scambio, nel confronto, anche nelle riunioni dove abbiamo possibilità di mediare le opinioni. Il cammino sinodale di fatto non è una riunione, ma è un'occasione per incontrarsi, per fare comunità, per cercare insieme dove lo Spirito vuole portarci come Chiesa. Però in ogni incontro, in ogni riunione, dobbiamo riscoprire il vero significato. In acilo lo sperimentiamo con l'unitarietà, quella che chiamiamo l'unitarietà, ovvero l'occasione di confrontarci insieme, giovani e adulti, e ragazzi dove l'opinione dei giovani conta tanto quanto quella degli adulti. Questo significa una Chiesa veramente per tutti, una Chiesa che ha a cuore tutte le sfaccettature della società, a tutte le età. Voi, tutti e tre, in quanto responsabili nazionali assistenti, girate tanto l'Italia. Quando è che, incontrando un gruppo di giovani in una dioce, si dice, che bella comunità, quali sono le caratteristiche che fanno di un gruppo la comunità, di un impasto il lievito e non il pasticcio? Quando si vive la fede, credo non con invadenza, ma con assoluto rispetto. Cioè, quando si fa della fede, effettivamente è un'esperienza di dialogo a tutto campo. Credo che oggi abbiamo bisogno di questo. Quando senti che c'è una realtà giovanile che non solo non si chiude, ma ha uno stile preciso nello stare dentro le cose di tutti i giorni. E qui penso che sia fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la predicazione stessa, mettere al centro lo stile stesso di Gesù, no? Penso alle parabole, per esempio, penso al suo sguardo, penso alla sua capacità di non essere mai invadente, ma di restituire a ciascuno la propria libertà, il proprio posto. Ma quando parli di predicazione, che cosa intendi? Quella che fai tu la domenica o anche quella che fanno loro? Eh, certo, intendo tutto il popolo di Dio, perché chiaramente il presbitero ha il suo compito nella Chiesa, ma è, e qui apro una parentesi che poi parentesi non è, anzi, per me come prete è molto importante la vita associativa perché ti rende più prete, proprio perché scopri che la Chiesa la costruiamo davvero insieme. Quindi quando parlo di predicazione, evidentemente parlo dei compiti che spettano a ciascuno, come battezzati. Quindi l'azione cattolica è una scuola pure per i preti, in qualche modo? Assolutamente sì. Una scuola di laicità? Assolutamente sì. Veniamo però alla predicazione dominicale, quella dell'Angelus, quella del Papa, sul Vangelo di Luca, l'incontro tra Gesù e Zaccheo. Ascoltiamo Francesco. Zaccheo, nella sua bassessa, sente il bisogno di cercare un altro sguardo, quello di Cristo. Ancora non lo conosce, ma aspetta qualcuno che lo liberi della sua condizione moralmente bassa, che lo faccia uscire dalla palude in cui si trova. Questo è fondamentale. Zaccheo ci insegna che nella vita non è mai tutto perduto. Per favore, mai tutto è perduto. Mai. Sempre possiamo fare spazio al desiderio di ricominciare, di ripartire, di convertirci. E questo è quello che fa Zaccheo. Decisivo in questo senso è il secondo aspetto, lo sguardo di Gesù. Dio non ci ha guardato dall'alto, no? Per umiliarci, no? Per giudiciarci, no? Al contrario, si è abbassato fino a lavare i piedi, guardandoci dal basso, restituendoci dignità. Così l'ingrocio di sguardi tra Zaccheo e Gesù sembra riassumere l'intera storia della salvezza. L'umanità, con le sue miserie, cerca la redenzione. Ma anzitutto Dio, con misericordia, cerca la creatura per salvarla. Ricordiamoci che è lecito guardare una persona dall'alto in basso soltanto per aiutarlo a sollevarsi. niente di più. Soltanto in questo caso è lecito guardare dall'alto in basso. Ma noi cristiani dobbiamo avere lo sguardo di Cristo che abbraccia dal basso, che cerca chi è perduto con compassione. Questo è e deve essere lo sguardo della Chiesa sempre, lo sguardo di Cristo, non lo sguardo condenatorio. Lorenzo, partiamo dalla fine. Su questo sguardo che deve essere della Chiesa, deve essere dei giovani di azione cattolica, lo sguardo, dice Papa Francesco, misericordioso e non uno sguardo che condanna. Questo è un tema che è uscito molto in questo primo anno di ascolto di Sinodo e a segnalare uno sguardo più giudicante che misericordioso sono stati in gran parte gli stessi giovani a segnalare questa cosa. Come giovani di azione cattolica su quali temi, su quali ambiti vorreste avere, ma allo stesso tempo chiedere alla Chiesa uno sguardo più misericordioso e meno condannatorio? Quello che chiediamo come giovani di AC è quello che chiedono i giovani in generale. I nostri giovani sono impegnati, tanti sono dentro proprio i cammini sinodali e anche nell'Equip. Li ribadisco solamente, abbiamo bisogno di una Chiesa che ci aiuta a capire che le nostre vite scombussolate sono non un pretesto per stare fuori dalla Chiesa, che anzi il Signore proprio vuole incontrarci nelle nostre vite così un po' mobili, un po' mancanti di punti fermi, perché le nostre vite sono segni di questo tempo, sono anche una provocazione che facciamo alla Chiesa, che abbiamo bisogno insieme di aiutarci come giovani a capire che il Signore così ci vuole incontrare. Nella nostra mobilità oggi non è più possibile un'esperienza parrocchiale come una volta perché ci muoviamo tanto. Allora chiediamo alla Chiesa di sapere esprimere la sua maternità nella mobilità della vita. Ecco, non è possibile che da un giorno all'altro il nostro parroco non ci chiami più perché abbiamo cambiato città per studio o per lavoro. Ecco, dobbiamo dimostrare che ci vogliamo bene indipendentemente dove stiamo e poi non ci può più venire chiesto di essere come i nostri genitori o come i nostri nonni. Abbiamo un nostro specifico e questo è buono, è una cosa buona, è una cosa che il Signore ama. Emanuela, tu in quanto responsabile nazionale della Giovenazione Cattolica hai evidentemente un ruolo, diciamo così, da protagonista nella Chiesa ma ti domando, questo vale almeno in Nazione Cattolica per i giovani in genere e anche per le donne? Allora, partiamo dal presupposto che in AC uomini e donne sono corresponsabili ugualmente e che partecipiamo... Infatti siete in due, un uomo e una donna. Esatto, non è un caso che siamo in due a condividere questa responsabilità. È una presidente donna già c'è stata, generale, in Nazione Cattolica quindi siamo a posto da questo concorso. Quindi, come dire, questa scelta chiaramente non è casuale ma è legata a un protagonismo che è espressione già di quanto avviene nei territori. Il protagonismo dei giovani di AC è, come dire, la base del nostro impegno. tutti vogliamo essere impegnati nelle nostre parrocchie ma soprattutto nei luoghi in cui ci troviamo, nelle scuole, nell'università. In Azione Cattolica questo passa anche attraverso ad esempio delle scelte, degli ambiti di impegno specifici. Penso al Movimento Studenti di Azione Cattolica che è già una palestra di democrazia e di partecipazione a scuola. Si inizia da adolescenti, si inizia presto. Dol Gianluca, abbiamo pochissimo tempo. Prima hai parlato di predicazione dei laici, predicazione dei giovani. Tu che cosa hai imparato e che cosa stai imparando a stare in contatto costante con i giovani? A non dare mai più per scontata la fede. Questo è il grande tema che credo riguardi veramente tutti e sarebbe un guaio come diceva il Papa proprio nell'Angelus se la Chiesa in qualche modo si mettesse nella posizione dall'alto di chi ritiene che in fin dei conti ci siano troppe cose scontate non semplicemente da ribadire. Ecco, ciò che i giovani ti insegnano sempre è a rimanere con i piedi per terra e a non dare per scontato nulla. Anche la più piccola parola che dici e questo sicuramente è qualcosa di estremamente profetico. Grazie davvero allora per averci raccontato il vostro incontro con Papa Francesco e noi ci rivediamo domani sempre alle 17.30. Buona serata.